Signore, dimmi cosa devo fare per fare davvero la Tua volontà. Scusate, mi sapresti indicarmi doveva chiesa di Gesù? Fatta la carità, sono un povero cieco. Ho fame. Anche il nostro Signore in croce lasciarono la nostra accia addosso. Oh Signore, Tu mi hai condotto in questo luogo. Ma non capisco perché. Come ti chiami? Pierotto. Pierotto, tu lo sai chi è Dio? Chi è quel prete? Dove? Quale vuole? La gialla o la rossa? La gialla. Ma non lo sai che è meglio chiedere a chi rubare? Non ci vuole andare in paradiso? Che cos'è il paradiso? Se magna? Pierotto, guardami! Pierotto! Pierotto! Sono Filippo, Filippo Neri. Stanno confessando di spazi non consacrati. Chi è? Ho già visto abbastanza. Il tuo padre vuole che impari a farmi un po' di tutto. Pierotto! 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 Pierotto è matto! E adesso vorrei entrare al lavoro, non è di giusto. E andare! E andare, e vieni a domenizia nato. Questo lo chiameremo... Oratorio. Tu non mi piace nulla. E devi andare. te ne devi andare padre Filippo neri ma che t'ha fatto ma che ne so io quello è tutto ma mi sa che tu non ci vai nelle indie Filippo